Un omaggio alla sua città adottiva. Con questo gesto Raffaele Cantone, magistrato e attuale presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, inaugurerà venerdì prossimo alle 17.30 la 54esima edizione di Cortona Antiquaria, la mostra più antica d'Italia, uno degli appuntamenti più attesi e importanti per il mondo antiquario italiano ed europeo. Dal 20 agosto al 4 settembre Cortona si immerge in un'atmosfera ad altri secoli. È dal 1963 che ininterrottamente Cortona, tra la fine del mese di agosto e l'inizio di settembre, vive immersa nell'antiquariato. Il percorso espositivo si snoderà attraverso le storiche sale di Palazzo Vagnotti, gioiello settecentesco dell'architettura cortonese, che tornerà a vivere proprio nei giorni della mostra, allestita nelle sale che racchiudono il fascino di storie, stili e gusti diversi. 32 gli antiquari, provenienti da tutta Italia, presenti a Cortona Antiquaria, ci sono anche numerosi espositori, provenienti in particolare da Roma, Bergamo, Brescia e Pordenone. All'interno di Palazzo Vagnotti sarà possibile vivere un percorso innovativo rappresentato da gioielli più belli e raffinati della collezione di arteografa contemporanea riflessi d'autore, selezione di pezzi unici della collezione di arteografa contemporanea ad oro d'autore di proprietà di Arezzo Fiere. Nelle sale del Palazzo Casale, all'interno del Mike, troverà spazio una personale dedicata al design tedesco Manfred Bischoff, uno dei grandi maestri del gioiello contemporaneo.